Il suo Ascoli è la prima panchina per lei e porta a casa tre punti. Come ha visto questa prestazione? All'inizio bene. Sono contento per i tre punti e per la vittoria che ci mancava da tanto alla prima squadra. All'inizio siamo partiti bene, dopo invece abbiamo fatto qualche errore tattico, ci siamo avvassati troppo e abbiamo stato 10-15 minuti in difficoltà. È vero che però abbiamo lavorato semplicemente due concetti di gioco e a livello mentale loro avevano bisogno di vedere le cose più pulite, più chiaro. Quindi c'è stato un confronto diretto sia i giocatori con noi che con lo staff. Abbiamo visto quali erano le loro necessità e le difficoltà e abbiamo lavorato con loro. Comunque è un gruppo sano, un gruppo con delle qualità importanti, però secondo me magari gli serviva questa vittoria per creare una nuova identità, per ricredere a quello che sanno fare e quindi complimenti ai ragazzi. È anche vero che avete incontrato un Livorno senza identità? Abbiamo di quello che ho avuto il tempo e pochi giorni da studiare, un Livorno che aveva delle belle ripartenze e soprattutto con Marras, oggi non c'era Murillo, di rientrare, tanti tiri in porta. Comunque è una squadra che negli ultimi quattro partite il gol l'ha fatto quasi sempre. Quindi non sono io a criticare se ce l'hanno o non ce l'hanno. Secondo me le situazioni che potevamo gestire le abbiamo gestite bene.